Ha visto prepararsi anche Samu Castilleco, entra anche Maldini. Allora, eccolo, Ballotturé, franco-senegalese, arrivato dal Monaco, anche lui ex Lille, ex Paris Saint-Germain. L'apertura sinistra per Maldini, è ancora generale. Ballotturé, tenendoli in campo per tutto il match, Caldara apre a sinistra. Inizia che va abbattuto, Caldara va a sinistra da Ballotturé. Il novantesimo, nonostante Caldara, va ancora a sinistra da Ballotturé. Justin Smith. Ballotturé. Resto 5 al Milan, oggi 1. Grazie. Grazie. ceni Screen. Grazie a tutti